Nasce un nuovo progetto di accessibilità agli spettacoli in sinergia fra Rossini Opera Festival e l'Unione Italiana Cechi Ipovedenti. Il progetto presentato questa mattina ha lo scopo di consentire l'accesso agli spettacoli del festival alla comunità dei non vedenti attraverso audio introduzioni ed inserti realizzati per l'occasione da personale specializzato e diffusi nel corso dello spettacolo attraverso mini apparecchi radio dotati di cuffie. Partiamo con un progetto di accessibilità e quindi le persone con disabilità visiva che saranno al festival potranno usufruire di un'audiodescrizione. Quindi avranno delle radioline, una piccola cuffia con una radiolina e in questa cuffia saranno inviati degli inserti che una voce professionale in cui una voce professionale spiegherà che cosa sta succedendo sul palco mentre la musica è silente. Si inizierà con una descrizione completa della scenografia e degli aspetti scenografici e anche dello spirito della regia perché spesso chi non vede non riesce chiaramente a cogliere subito che cosa il regista vuole proporre e quindi quest'audiodescrizione che sarà concordata durante le prove con il regista darà la possibilità a chi non vede di avere un sguardo più completo e più significativo su tutta l'opera. Il festival ha da qualche anno sviluppato una notevole sensibilità a temi diciamo così extra musicali che vanno al di là del nostro principale compito istituzionale che è quello della restituzione della tradizione e della musica di Rossini. Abbiamo iniziato a guardarci intorno in qualche modo avendo come riferimento i punti, gli obiettivi dell'Agenda 2030. Da tre anni siamo un festival certificato per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e oggi abbiamo allargato questo tema anche a quello dell'inclusività. È un festival sempre più inclusivo che ha a cuore la possibilità di rendere accessibili i propri spazi, i propri spettacoli anche a delle comunità di persone che hanno delle difficoltà e con questa iniziativa di oggi segniamo un passo importante rendendo e facilitando l'accesso ai nostri spettacoli le persone ipovedenti e cieche. Nel tema dell'inclusività c'è anche la grande attenzione che abbiamo rivolto soprattutto quest'anno anche la politica dei prezzi quindi essere inclusivi anche cercando di trovare tariffe agevolate soprattutto per i giovani e i giovanissimi che trovano l'opportunità di venire a condizioni di favore al nostro festival. Penso che il dovere verso i non vedenti sia importante perché alla fine l'importante per me almeno è sentire l'opera sentire i cantanti, sentire la musica, l'orchestra e noi ci mettiamo un grosso grosso impegno nel trovare la edizione migliore per cui sono convinto che questa iniziativa avrà molto successo e logicamente negli anni si svilupperà ancora di più.